Sofia Vergara è perfetta anche in jeans, curve pericolose Attrice televisiva più pagata secondo Forbes, ancora una volta, Sofia Vergara è certamente una tra le donne più belle e più sexy del mondo, e non ha bisogno di mettersi a nudo per dimostrarlo Anche con un semplice paio di jeans, riesce ad essere splendida. E a far sembrare i suoi 45 anni molti di meno Lossessione per i look. Jeans skinny strappati, una blusa nera che lascia scoperte le sue spalle e in mano una tazza di caffè, anche così, in tutta la sua semplicità, Sofia Vergara riesce ad essere una vera bomba sexy È tanto bella, la 45enne attrice star di Modern Family, da sembrare finta, lunghi capelli mossi, una pelle da ragazzina e due occhi magnetici, la star tv che è ancora una volta la più pagata secondo la classifica stilata da Forbes è perfetta E, che ci tenga a look, è evidente. L'ha ammesso lei stessa, durante una recente intervista, mio marito Joe, manganiello, mi prende sempre in giro perché arrivo a cambiarmi fino a tre volte al giorno Dice che ho l'outfit per uscire, l'abbigliamento da casa perché appena varco la soglia della mia abitazione, non ho nessuna voglia di tenere indosso jeans stretti o vestiti vari e il pigiama Del resto, seppure in casa io voglia stare comoda, di certo non indosso abbigliamento da notte alle 4 del pomeriggio. Ma, sapete, le donne vogliono sentirsi a loro agio e allo stesso modo sentirsi belle, sempre Il look aiuta e ben venga. A sentirsi bella, Sofia Vergara non ha certo problemi Lo scorso mercoledì, ritratta mentre faceva shopping a Beverly Hills, si è mostrata ai paparazzi con un look semplicissimo, jeans strappati col risvolto alla caviglia, blusa bianca con maniche a tre quarti e come unici vezzi alti sandali color argento e un rossetto prugna sulla labbra Un outfit casual, che nulla toglieva alla sua bellezza latina Sofia Vergara non è però solo una splendida attrice. Sta anche muovendo i primi passi come stilista di intimo, arriverà fra poco sul mercato la sua linea Happy Empowerment Bio Parte del ricavato, servirà a finanziare l'imprenditoria femminile. Perché Sofia, dalla parte delle donne, lo è da sempre Con un patrimonio stimato di circa 140 milioni di dollari, la Vergara è quel che si dice una donna che si è fatta da sola. Quando mi sono trasferita dalla Colombia agli Stati Uniti, ero una madre single E la cosa che contava di più, per me, era essere in grado di mantenere mio figlio Manolo, ha dichiarato. Avevo dei sogni per lui Volevo mandarlo nelle scuole migliori, garantirgli le cure migliori. E, allo stesso tempo, dovevo aiutare la mia famiglia in Colombia. Per fare tutto quello, avevo bisogno di soldi. Di soldi, ora, Sofia Vergara ne ha in abbondanza E il merito è solo suo. Della sua tenacia, del suo talento. Testimonial di brando come Pepsi e Eden Shoulder, è l'incontrastata star della serie tv di successo Modern Family ed è spesso protagonista di copertine ed editoriali. A vederla, nessuno direbbe che questa bomba sexy abbia lo scorso luglio compiuto 45 anni e. Ciao, ciao.